Quindi stiamo raccogliendo i vari bonifici che stanno arrivando dal territorio e credo che da qui a 15-20 giorni si organizzi tramite Luca Simeoni l'incontro con questi colleghi per portare questo segno della categoria di solidarietà nei loro confronti, poco tanto che sarà è comunque un segno di dire che gli siamo vicini, però di preciso ancora non abbiamo, adesso poi il 26 c'è il direttivo nazionale sicuramente intorno ai primi giorni di novembre questa cosa verrà fatta anche dopo averne parlato in direttivo nazionale. Benissimo, grazie Amilcare, buon lavoro, buona settimana visto che siamo soltanto a lunedì, un abbraccio. Grazie a te Fabio, buon lavoro a tutti. Grazie a te Fabio, buon lavoro a tutti.